Siamo con il comandante della polizia provinciale Matteo Coppia, da giugno comandante, si è trovato diverse problematiche subito, è arrivato l'orso, sono arrivati i lupi, ecco quindi come state lavorando su queste tematiche in particolare? Sì, è un'attività che ha portato subito la nostra attenzione, ci siamo dedicati al tema dei lupi che sono stati oggetto del riscontro delle nostre fototrappole, segnalazioni dell'orso, abbiamo una squadra di operatori che si dedica quasi preventamente a questi temi e stanno presidiando la zona e quindi mi sento di dire che è abbastanza controllato e tutelato il territorio in questo momento. L'ultima segnalazione è quella di Gromo, avete avuto dei riscontri effettivi? Allora stiamo valutando, stiamo raccogliendo le immagini, i video e invito la cittadinanza, anzi se dovesse avere ulteriori riscontri, a trasmetterceli. Comunque al momento non abbiamo degli sviluppi. Anche l'orso quindi, quando ha fatto una comparsata sulle nostre montagne, come bisogna comportarsi? Qualche consiglio che avete già dato anche da parte della Polizia Provinciale alle persone che vivono il territorio? Allora, per la verità le segnalazioni che sono state fatte fino ad oggi sull'orso non hanno poi avuto riscontro nei nostri sopralluoghi. Comunque sia, ritengo che debba essere immediatamente formata l'autorità, passando al numero 1 in emergenza, e per essere la Polizia Provinciale e i colleghi dei Carabinieri Forestali per dare un riscontro immediato anche alle segnalazioni, senza creare particolari allarmismi ma con sensibilità al tema. Per quanto riguarda la pesca, invece, si sono aperte le porte a diversi progetti, anche in accordo e in rapporto con l'associazione Pescatori di Bergamo, che state seguendo anche voi da lontano al momento. Sì, abbiamo sottoscritto una convenzione che ha fornito alle nostre associazioni di tutela ittica degli elettrostorditori per poterci dare ulteriore mano rispetto a quelle che già ci stavano dando nella tutela del patrimonio ittico e nell'attività della Polizia Provinciale. Abbiamo in progetto di fare nell'immediato dei corsi e vorremmo creare ulteriori guardie ittiche e guardie anche menatorie che potranno supportare la nostra attività in maniera capillare nei territori. Concludiamo invece tornando al discorso lupi e orsi, quindi la gente, come si deve comportare quello che sta vivendo nel mondo della montagna, che il rischio di incontrarli sulla propria strada c'è? Sì, allora, secondo me, ma non sono un veterinario neonetologo, il rischio non sussiste particolarmente perché il lupo, proprio per la sua natura, evita l'uomo e la caccia del cibo avviene in orari e momenti diversi. La segnalazione a chi di dovere è fondamentale e il nostro intervento è tempestivo. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!